Anche la Francia avrà il suo Jobs Act e dirà addio alle 35 ore di lavoro settimanali. Questo almeno è quello che si teme. Oltre a Alpey a poco servono le parole rassicuranti del ministro che dice di voler dinamizzare il mercato del lavoro. Miriam El Comri sul suo disegno di legge. La normativa risponde alla situazione attuale nel nostro paese. Abbiamo un tasso di disoccupazione che va oltre il 10%, lo stesso di 20 anni fa. C'è stato un lieve miglioramento nell'ultimo periodo, ma non basta. Il nostro paese crea meno lavoro che altri. E a confrontare i soli dati tra il 2013 e il 2015, i posti di lavoro creati oltre Alpe sono effettivamente in numero inferiore rispetto alla stessa Italia e Spagna. Per me la posta in gioco di questa riforma, ha detto il ministro, è migliorare l'accesso al lavoro. La riforma risponde all'esigenza di una liberalizzazione del mercato del lavoro e di una maggior libertà nei licenziamenti, cosa che anima piazza e cuore in Francia. Previsto inizialmente per oggi, il testo approderà al Consiglio dei Ministri il prossimo 24 marzo. Ecco i punti più controversi. La durata massima della giornata di lavoro è fissata in 10 ore, che con un accordo collettivo possono diventare 12. La settimana resta di 35 ore, con un massimo di 48 ore. Con la riforma si potrà lavorare fino a 60 ore, previo accordo aziendale. Riposi e compensatori saranno eventualmente previsti nelle settimane successive. A legge approvata cambierà anche il regime degli straordinari. Non si potrà andare oltre un minimo del 10% di retribuzione in più, stabilito oggi al 25% senza accordo. Altro punto controverso è quello dei licenziamenti. Il disegno di legge francese li renderà più facili, ampliando il ventaglio di cause che giustificano i licenziamenti economici. Tra le cause, il progetto di legge annoverà momenti di difficoltà, come un calo negli ordini o perdite di esercizio per diversi trimestri consecutivi, ma anche trasferimenti di tecnologia o riorganizzazione aziendale necessaria per salvaguardare la competitività. Anche le indennità di licenziamento avranno un freno e non andranno oltre le 15 mensilità. PC, tablet e smartphone aziendali usati dal dipendente non saranno monitorati. Il governo francese vuole salvaguardare il diritto alla disconnessione e garantire di non essere inondati da mail fuori dall'orario di lavoro.